Ci auguriamo che oggi questa situazione venga superata e che i lavoratori possono ritornare a casa finalmente con una tranquillità perché ormai da parecchio tempo questi lavoratori hanno perso la pace in famiglia perché queste persone non ce la fanno più ad andare avanti. I lavoratori si stanno impegnando ancora a mantenere aperte le strutture con grandi sacrifici perché ci tengono ai loro utenti, sanno che questi ammalati hanno bisogno delle loro cure però si sta tirando la corda troppo in lungo. Adesso è arrivato il momento che questa corda si è spezzata e quindi immediatamente devono provvedere a pagare l'aspettanza ai lavoratori e a fare tutti i passaggi successivi affinché queste cooperative rimangano in piedi. Quindi immediatamente, come è stato promesso da più parti, devono fare le convenzioni in modo che questi lavoratori possano lavorare con tranquillità.